Ciao a tutti amici, sono molto contento e fiero di poter dire che stiamo crescendo nonostante il passaggio da fotovoltaico domestico a commerciale non sia stato semplicissimo e perciò ti invito se sei un collega venditore che ti occupi di fotovoltaico contattami perché cerchiamo proprio te per le province libere. Il nostro obiettivo a seconda ovviamente di quelle che sono le tue necessità personali è quello dopo un periodo di prova reciproca di assumerti a tempo indeterminato come impiegato commerciale perché vorremmo creare un metodo, una squadra molto forti sul territorio evitando che ci siano continui cambiamenti di personale e che i nostri clienti partner ricevano l'assistenza che meritano. Se hai una minima esperienza di vendita B2B, se soprattutto hai già esperienza nel fotovoltaico o nel materiale elettrico, ti incoraggio a mandarci il tuo curriculum e a chiedere un colloquio. Saremo felici di verificare le necessità reciproche e trovare il modo per poter iniziare a lavorare assieme. Condividi questo video se hai degli amici agenti o venditori, agenti anche plurimandatari, venditori che stiano cercando un'opportunità importante con un metodo di vendita esclusivo diverso da tutti gli altri o almeno da tutti gli altri distributori di materiale per il fotovoltaico. Un saluto a tutti da Marco Faia, questa volta cambio la chiusura, amministratore di Greenwood Italia SRL semplificata. Ciao a tutti, grazie.